ma non c'è la cosa sopra voi ma non c'è la cosa sopra voi ostia che è quello? che è quello? ma non è normale ma che coglia? che caraglio passa qui? ma il cavo è viola ma che caraglio sta passando qui? ostia davo una occhia cavo è viola va la macchina va la macchina ma che coglia della macchina che caraglio passa? che caraglio passa? non si,幹ite un pochino perché è quello è Helo